è piccola preparatevi perché il secondo giro si avrà una corsa il giudice valuta il movimento del cane quando passate qui davanti corsetta corsetta via via con la corsetta più lenta e piano 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 anche in braccio eh corsettina eh corsettina mantenete le distanze e adesso vi fermate qui davanti ai giudici avanti per cortesia raggiungete l'ultimo angolo vi mettete tutti in fila e una alla volta poi venite davanti ai giudici buon lavoro � un'altra volta uscola chiamata Grazie.